Allora, il primo ricordo di qualcosa riguardante la recitazione, la comicità, ce l'ho da quando ero bambino, perché mio nonno recitava in una compagnia amatoriale, in oratorio, e mi ricordo che lo aiutavo a imparare le sue scene, le sue battute, dandogli le battute degli altri. Questo è il primo ricordo in assoluto che ho e mi ricordo che mi piaceva moltissimo. Poi col tempo mi sono appassionato alla comicità guardandola in televisione, varie trasmissioni, e la prima volta che sono salito sul palco andavo alle medie e facemmo in oratorio uno spettacolo a 12-13 anni, e mi ricordo che feci un monologo unendo battute di tutti i comici italiani, mescolandole tra loro, e fu ovviamente, veniva un obrobrio, però è la prima volta che mi sono esibito alle medie. Anche perché secondo me 21 anni, tutto sommato, non sono così pochi, cioè 21 anni. Non è utile che fate quelle facce solo perché avete il quadruplo della mia età, ok? 21 anni non sono così pochi. Cioè, è un buon campione di tempo secondo me, no? Si dice sempre la vita è un film, la vita è un film. Ecco, se la vita fosse un film, i primi 21 anni della mia vita sarebbero i primi 21 minuti di un film. E i primi 21 minuti di un film? Cioè, qualcosa inizia a capire del film. Inizia a capire se ci sarà da ridere o meno, se finirai di vederlo o spegnerai prima. Ma soprattutto se i primi 21 anni della mia vita fossero i primi 21 minuti di un film, io capirai le entromissioni di mia mamma che ogni tanto passa davanti allo schermo e fa scusa, mi sono distratta un secondo, ma lui sta ancora con lei perché ha baciato l'altra. Mi sono confusa un attimo, ma poi lui trova un lavoro vero, si laurea o continua a farlo scemo sul palco, mamma più parli più non capisco un cazzo neanch'io, mi vuoi lasciar guardare con calma un secondo il film per piacere? E ci ho pensato a questa cosa dei 21 anni come i 21 minuti di un film, ci ho pensato. E adesso non so quanti di voi mi conoscano tra di voi, però se effettivamente fossero i primi 21 minuti di un film, la trama fino a qua sarebbe semplicissima. Cioè io quando ero piccolo, quando ero un bambino, volevo fare l'attore, da grande, volevo fare il comico, avevo questo sogno. E gli ultimi due anni sto iniziando a farlo, sto iniziando ad andare abbastanza bene e sono contento e tutto, però se fosse un film sarebbe tutto lineare fino a qua. Cioè serve a un certo punto in un film un qualcosa che faccia proseguire la storia, un ostacolo sul percorso del protagonista, il plot twist lo chiamano. E io ho pensato a quale potrebbe essere il plot twist della mia vita adesso. E ho qui tre opzioni. Allora la prima è che diventi padre. Quindi lascio incinta, inavvertitamente, una ragazza e mollo la comicità per dedicarmi al pargolo. Questa è la prima. La seconda è che diventi padre. Quindi ricevo la vocazione, entro in seminario e dedico la mia ironia a Gesù. La terza è la più probabile, secondo me, però è anche un po' complessa da dirvi, quindi vi chiedo di venirmi dietro in questa cosa, è un po' difficile da spiegarvi. Cioè, ragazzi, dai, per un comico, ventunenne di Milano. La bamba, ragazzi, è inutile che, dai, la cocaina, non per me, no, è per il mio personaggio, per il mio personaggio, la cocaina, immaginatevelo. Totalmente inaspettato, totalmente inaspettato. Io inizio a pippare come un drago, come un drago, proprio tutti i giorni inizio a pippare e non riesco neanche più a esibirmi. Ci sono proprio i colleghi dietro le quinte che mi vedono emaciato in un angolo con i segni della cocaina proprio sul volto, no, senza denti, brutto, no. Io per dieci anni non mi esibisco più, schiavo della mia dipendenza, no. Poi finalmente a trenta entro in questo centro di recupero per tossicodipendenti e comincio a far ridere gli altri pazienti piano piano con delle battute e poi torno con uno spettacolo bello, profondo sulla cocaina, un successo di pubblico e di critica. Voi capite che io devo iniziare a pippare domani mattina. Questo è un cazzo di film. Sarete d'accordo con me, penso. La comicità, sì, secondo me è nel DNA, nel DNA di chiunque. Questa me l'ero preparata e per citare Ratatouille, che è il mio cartone animato preferito, non chiunque può diventare un grande comico, ma un grande comico può celarsi in chiunque. In Ratatouille era un cuoco, non era il comico, però mi piace. Allora, come nasce? Ci sono varie strade, nel senso che ogni pezzo è nato in modi diversi. Ci sono dei monologhi che mi appunto un'idea sulle note e poi tornando a casa riesco a scrivere 5 minuti subito. Altre volte invece è un processo più lungo, ho bisogno di riguardarlo a distanza di tempo, di rimetterci mano. Dipende molto. Sono dell'idea che i pezzi migliori vengano molto naturali. Cioè, raccogli delle idee e quando ti metti a scriverle vengono fuori tutte insieme. E altre volte invece devono depositarsi, sedimentarsi, devi aspettare del tempo e poi nasce un qualcosa a distanza di tempo. È molto vario. La cosa che più mi stupisce in assoluto da quando vivo da solo sono le condizioni di abbandono che sono riuscito a raggiungere. C'è proprio lo schifo, ok? La totale assenza di igiene intima, totale proprio. Perché io pensavo, vado a vivere da solo, raggiungo il livello più basso che posso raggiungere e poi mi devo solo abituare. Riesco a sorprendermi sempre. Riesco sempre a fare peggio, sempre. Ho anche pensato di aprire un profilo Instagram da influencer per raccontare il mio disagio. Sarebbe una roba tipo un metro quadrato di fungo porcino di muffa nel frigo? Check. Settimo riutilizzo delle stesse mutande croccanti? Check. D'altronde c'è scritto Monday. Oggi è Monday, quindi non vedo dove sia il problema. Quarto risciacquo del flacone dello shampoo vuoto. Check. Ho anche un piccolo consiglio su questo. Un piccolo tip. Si dice tip? Un piccolo tip. Finché mettendo un goccio d'acqua nel flacone vuoto e scuotendo molto forte e continuano a formarsi delle bollicine potete continuare ad utilizzarlo. Piccolo consiglio, altro piccolo tip. Se ci sputate fa molta più schiuma. Molta più schiuma. Cos'altro? Macchie di sperma sulle lenzuola? Check. Ce le abbiamo. Ho anche provato ad unirle con un pennarello. È uscita la scritta torna a casa imbecille, non ce la puoi fare da solo. E quarto risciacquo della padella. Convinto che la carbonara di settimana scorsa possa insaporire le mie uova strapazzate di oggi? Check. Check. Molti di voi... Questa voce mi... Molti di voi mi chiedono quale sia la mia morning routine. La mia morning routine è molto molto semplice. Io mi sveglio la mattina, mi faccio largo tra le pile di vestiti rancidi, raggiungo il lavandino per bere un goccio d'acqua e mi accorgo che la pila di piatti sporchi ha ormai completamente tappato il rubinetto. Quindi aprendo l'acqua e inizio a schizzare pesto e ragù in giro per la casa. Io mi faccio avanti, iniziano ad asciugarmi anche le prime lacrime, raggiungo il telefono, chiamo mia mamma e le chiedo se posso tornare a vivere da loro e le giuro che non pippo più, veramente. Allora, quando devo provare sul palco un monologo che ho scritto, inizio facendo memoria, chiaramente. Quindi arrivo ad avere la memoria perfetta e poi lo provi. Lo provi a serate un po' più piccole, con meno persone, vedi cosa funziona, cosa meno, cosa tagliare, cosa aggiungere, magari improvvisi una battuta che funziona e quindi raggiungi. Quella è la fase un po' più lunga, secondo me. Cioè, dopo aver scritto il pezzo, devi capire cosa tenere, cosa no, cosa funziona e cosa no. Quindi sì, provando, riprovando, riprovando, in più situazioni possibili, con più pubblici diversi possibili. Io penso che esistano dei limiti per un comico e sono soggettivi. Cioè, ogni comico ha i propri limiti, ogni comico decide di che cosa parlare e di che cosa no. Penso non ci siano dei limiti universali, quindi per chiunque. Ognuno di noi, in base alla propria sensibilità, decide di che cosa scherzare e di che cosa no. No, mi dà proprio fastidio l'essere trattato come un bambino. C'è solo un momento nella mia vita in cui io capisco e accetto l'essere trattato come un bambino. Ed è quando sono fatto. C'è. Quando sono fatto io lo capisco e lo accetto. Perché penso che i fattoni e i bambini abbiano tantissime cose in comune, tantissime. tipo lo stupore nei loro occhi, no? Perché il bambino vede le cose per la prima volta, giusto? Il fattone vede le cose per la prima volta in un modo nuovo. Cioè, trovatemi la differenza tra E che bella invenzione è il microfono, c'è un oggetto che... E questo. Minchia raga, ma che invenzione ha il microfono. C'è un pezzo di ferro, ci parli dentro, si sente più forte. Genio totale. Come cazzo ti è venuto? Le paranoie. Un'altra cosa che accomuna fattoni e bambini. Avete presente quando i bambini se ne escono con quelle robe tipo... L'altro giorno sono uscito da scuola, ho incrociato il mio amico Marco, lui mi ha salutato, io non l'ho riconosciuto, quindi non l'ho salutato. Adesso lui penserà che io lo odi. Ma mamma mica penserà che lo odi. Fra, ma stai scherzando? Minchia, quello mi viene a prendere sotto casa. Solo un bambino o un fattone possono pensare una cosa del genere. Il fatto che non finiscano le frasi. Fattoni e bambini non finiscono le frasi. Avete presente quando i bambini iniziano a... Lo sai che, lo sai che, lo sai che, lo sai che io, lo sai che, lo sai che io, lo sai che io... E niente fra... Ti stavo dicendo... Ti stavo dicendo... Oh, che cazzo mi devi dire? È nato, è nato, Cristo è nato. Allora, non sono mai stato aggredito direttamente durante un'esibizione. Mi è capitato una volta, mi stavo esibendo in una piazza, e c'erano delle transenne che dividevano il pubblico dai bar e dagli aperitivi che avvenivano lì nella piazza, nei bordi della piazza, e mi ricordo che c'era un gruppo di persone molto rumoroso che faceva aperitivo di fianco alle transenne, e insomma, ero un po' infastidito da questo gruppo, e quindi mi sono messo a scherzare col pubblico del fatto che facessero tanto casino, tanto loro non mi sentivano, e li ho un po' insultati parlando a bassa voce col pubblico, per cercare di creare empatia, almeno con le persone. E niente, uno di questo gruppo ha sentito, che gli stavo dando del coglione fondamentalmente, e si è girato e ha accennato ad a scavalcare la transenne per il mio incontro, e mi sono cagato addosso, perché non sapevo cosa stesse per succedere, e lì, devo dire, ho avuto un po' la situazione angelo sulla spalla e diavolo dall'altra, perché da una parte sapevo che professionalmente non dovevo reagire, e dovevo cercare di far passare liscia la cosa, dall'altra mi stavano salendo i nervi, e volevo scendere dal parco, devo lanciare il microfono in faccia, cioè la parte un po' più, e poi alla fine è andata tutto bene, e ho detto, no scusa, si fa per ridere, si fa per scherzare, via. Però ho avuto un po' paura. Allora, la mia paura più grande da comico è totalmente irrazionale, non può accadere come cosa, è molto surreale, però ogni tanto mi immagino di essere in una situazione non sul palco, in giro, un aperitivo, e che qualcuno mi... è più un sogno che non una paura, che qualcuno mi presenti e io debba iniziare a fare un monologo da un momento all'altro. cioè come se, tipo, apro la porta del bagno e dall'altra parte c'è il pubblico, ci sono tipo duemila persone e devo iniziare. È un incubo che ogni tanto faccio, perché l'idea di salire sul palco senza sapere che sto per salire sul palco mi spaventa. È che io non sono figlio unico, noi siamo in otto. Mia mamma ha partorito sei figli, è vero. Lei ci tiene sempre a ribadire il fatto che noi sei, siamo stati tutti voluti allo stesso modo, bello, lo dice sempre, da mia sorella più grande Noemi fino a mio fratellino più piccolo, basta cazzo, ci tiene sempre a ribadire questa cosa. Però no, Agnese, le differenze che ci sono tra una famiglia come la mia, numerosa, e una come la tua, con un figlio unico, sono abissali, no? Sono tante. Per esempio, il concetto di privacy in casa tua, bene o male, si può dire che esista un concetto di privacy? Sì, bene o male sì, no? In una famiglia con un figlio unico si può dire che esiste un concetto di privacy. Da noi no. Io posso dire tranquillamente, tranquillamente, che in 21 anni di vita non mi è mai, e dico, mai capitato, di cagare senza un mio fratello che si lavasse i denti di fronte a me. Io vi giuro che non ho mai provato questa emozione in vita mia, mai. E me ne sono accorto recentemente, no? Della mancanza di privacy, perché abbiamo fatto dei lavori a casa, mia mamma ha visto un minuto di Cerco Casa disperatamente, non so se lo conoscete, trasmissione di realtà, è impazzita completamente, adesso dice queste cose, gira per la casa, spostiamo i punti luce. Che cazzo questo dice? Mi ha fatto dei lavori in bagno, ha comprato una nuova vasca da bagno, ha invitato delle sue amiche a vederla, cinque, cinque se amiche sono venute a vedere questa vasca da bagno, mezz'ora a fissare una cazzo di vasca da bagno. Certo, potevano aspettare che finissi di lavarmi, però sai, no? Quando hai 21 anni e cinque donne anche se mature ti fissano mentre sei nudo, voglio dire non rovini tutto il nome di una privacy che non hai mai posseduto. Poi devo dire che tutto sommato alla fine sono stato contento io e sono state contente loro, dai, sono state contente loro, adesso vado una volta al mese a fare il bagno a casa di uno di loro. Sono un po' preoccupato, vi dico la verità, sono un po' preoccupato perché settimana prossima vengono gli amici di mio padre, quindi mi... Ed è il motivo... Mi lavo a pezzi, forse mi... Ed è il motivo per cui sono andato a vivere da solo, no? Solo che adesso è tutto nuovo, qualsiasi cosa, no? Faccio delle esperienze incredibili, io non sono abituato, cioè io sono abituato alle persone che passano, sono abituato alle voci nelle altre stanze, al pubblico mentre cago. Io sono abituato, ragazzi, faccio fatica adesso, davvero. Ho anche proposto ai miei fratelli di fare delle videochiamate. Ho ricevuto quattro no e il quinto voleva essere pagato su OnlyFans. Sinceramente non mi sembrava il caso. Qui ride solo chi ha meno di vent'anni e questa cosa è molto bella perché c'è proprio un buco generazionale in mezzo al pubblico su OnlyFans che è una cosa fighissima. Poi vi spieghiamo cosa... Allora, in pratica... No, scherzo. Non so che cazzo... E quindi no, è tutto nuovo. Tipo il concetto di casa libera. Siamo d'accordo che è uno dei fondamenti dell'adolescenza di un ragazzo, no? Dai 13 ai 21 anni è una delle cose più importanti della tua vita. Ecco, casa libera, quando vivevo con i miei genitori, era pura utopia, no? Cioè, non avveniva mai. Ogni diecimila anni succedeva. Era una congiunzione astrale, ok? Era la cometa di Alley. Non so come dire... La morte di un papa, davvero. Era il papa che muore ucciso dalla cometa di Alley e io a quel punto avevo casa libera. E invece adesso ogni tanto mi capita, mi succede di stare da solo. Altro giorno ero da solo, in sala. Mi piace un sacco dire in sala. Anche se vivo in un monolocale. Cioè, tecnicamente ero da solo in sala, in cucina e in camera, contemporaneamente. Ma queste robe... Ed ero lì, no? Sul divano. Poi sarebbe il letto. Sarebbe... Nonché un piano cottura, all'occorrenza. Perché no? Ed ero lì, no? Sul divano e a un certo punto mi sono reso conto che erano dodici ore, dodici, che non sentivo ne pronunciavo una parola. Cioè, dodici ore di silenzio completo. Sono tante, no? Ho letto da qualche parte che quando trascorri tanto tempo in silenzio da solo puoi iniziare a sentire i tuoi pensieri. È vero. A me è successo. Ero lì sul divano. A un certo punto ho sentito proprio la mia voce nitidamente che mi diceva Eh, però dai! Non stiamo così male qua. Abbiamo la cucina. Abbiamo un bagno. Dei rasoi. Una corda. Una sedia. Non stiamo così male. Vero Wilson? Allora, un consiglio che in realtà mi è stato dato quando ho iniziato a fare il comico è stato di parlare di cose di cui potevo parlare solo io. Cioè, trovare degli argomenti di cui potevo parlare soltanto io. Perché quando ho iniziato a 16 anni vedevo e avevo sempre visto comici che parlavano della moglie, dei figli, della suocera, della loro vita da adulti e pensavo di non poter parlare di nulla perché non avevo vissuto nessuna di quelle esperienze. E poi col tempo mi sono reso conto che in realtà il fatto che avessi 16 anni e che fosse una voce abbastanza anomala nella scena comica era una cosa positiva. Cioè, era una cosa da usare a mio favore. E mi sono reso conto che l'unicità e l'originalità che ognuno di noi ha è la cosa più importante che puoi portare sul palco. Partiamo dal presupposto che 21 anni è una delle pochissime età, pochissime, in cui quando sei con un gruppo di 50 anni e ti viene chiesto quanti anni hai seguono una serie di insulti ingiustificati e orribili. Fateci caso. Sei con un gruppo di 50 anni e tu quanti anni hai? 21. Ma vai affanculo, va sto stronzo, sto pezzo di merda, sto figlio di puto. Ma perché? Perché? Cosa abbiamo fatto esattamente per meritarci questo trattamento? Non l'ho ancora capito questa cosa. Poi però crescendo col tempo mi sono reso conto che gli adulti invidiano noi giovani, chi più chi meno, perché vorrebbero tornare ad avere la nostra età. Io ho mio padre, per esempio. mio padre fa qualsiasi cosa, qualsiasi, pur di dimostrare anche solo un anno in meno di quello che ha qualsiasi cosa. L'altra sera eravamo a cena, avevo invitato due miei amici, due miei coetanei a cena, eravamo a tavola, c'era anche mio papà. E mio papà, ve lo giuro, ha rotto un silenzio di tre minuti con questa frase. Comunque, le sonorità di Fabri Fibra e J-Ax spaccano. Alla quale sono seguiti altri tre minuti di imbarazzo con i miei amici che mi guardavano come a dire, davvero sta cercando di fare colpo su di noi in questo modo? Cioè, è inquietante, no? È come se mio padre invitasse due suoi amici, due suoi coetanei a cena, e io facessi qualsiasi cosa pur di dimostrarmi più adulto di quello che sono. Sarebbe strano, che ne so, finisce la cena. Uè, giovanone, allora, cazzo, qua per tirarlo su ci vogliono le grue, eh? Quante pilole stai prendendo? Figa, sei blu in faccia. Senti, ma le bimbe come stanno? Le bimbe, eh? Bimbe, le ho viste che erano alte così, ormai saranno giganti, eh? Comunque bisogna organizzare una bella cenetta di pesci senza signore che ci rompono i coglioni. Sai quelle cazzo di robe che dite voi? Sarebbe inquietante. Poi, ogni volta che dico la mia su un argomento a 21 anni, mi sento rispondere a queste frasi, no? Eh, ma sei giovane. Cambierai idea. Quando avevo la tua età, la pensavo come te. Mi dà un fastidio, cazzo, quando avevo la tua età, la pensavo come te. Voglio dire, secondo voi, è automatico che un 21enne sia meno informato, saggio, interessante di un 60enne? Lo sto chiedendo, secondo voi è automatica questa cosa? Oh, dai, eh? No, no, c'è un luogo in cui ho capito quanto questa cosa non sia vera, ed è l'aria cani. Avete presente l'aria cani? Ecco, io adoro andare all'aria cani. Io adoro prendere il mio cane, portarla all'aria cani, lasciarla libera, sedermi in un angolo e godermi i discorsi degli altri padroni. Ah, uomini e donne di 50-60 anni che approfittano della pisciata del loro cane per risolvere qualsiasi problema nel mondo. E io sto lì, in un angolo, no? E mi godo proprio il qualunquismo con cui affrontano qualsiasi tema. L'altro giorno ero lì, all'aria cani c'era questo signore dei 50 anni, sulla cinquantina, no? Che parlava in un modo buffo, perché lui praticamente inspirava e poi diceva tutte le parole che stavano nel respiro che stava per fare. Tutte. Eravamo lì e a un certo punto fa... Mi sentito lì che adesso voglio fare la legge su Ricchioni con tutti i problemi che abbiamo in Italia. Adesso sta a vedere che il nostro problema sono i culi e intanto i politici staranno lì a parlare, parlare, parlare. Si mangiano tutto, rossi e neri rubano tutti nello stesso modo. Dopodiché si gira verso di me, mi nota e mi fa... E tu che cosa ne pensi? Cala il silenzio completo nell'aria cani, completo. Due aschi che si stavano inculando tra di loro, si bloccano e si girano a guardarmi. Ma guardi, io sinceramente penso che sia una questione molto complessa. La legge proposta dal deputato Alessandro Zann si proponeva di prevenire e contrastare la violenza basata su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Il testo prevedeva l'estensione dei cosiddetti reati d'odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa, articolo 604b, stel codice penale a chiunque compie discriminazioni verso omosessuali, donne e disabili. C'è chi la considerava una legge liberticida, io personalmente la sostenevo e la ritenevo di vitale importanza in un momento storico delicato come questo. Silenzio completo di nuovo. I due aschi, maschi, quindi molto probabilmente d'accordo con me, riprendono a incularsi a vicenda. Quando avevo la tua età la pensavo come te. Quando lei aveva la mia età Alessandro Zann era nelle palle di suo padre, come la mettiamo? Vabbè. Ma tu quanti anni hai? 21. Ma vai a fanculo, va, sto pezzo di merda.